Amici sportivi, amici scommettitori, finalmente ben ritornati sul canale, vi do il benvenuto in questo nuovo video dei pronostici della Serie A della terza giornata Non ce la facevo più con la sosta, vi prego, vi prego, facciamo una petizione, firmiamo qualcosa perché queste partite nazionali vengono spostate tutte in un solo periodo dell'anno Così le seguiamo anche più volentieri, non ce la faccio più con queste soste durante l'anno Chiusa questa parentesi, la Serie A si apre con un big match, Fiorentina-Juventus Allora, è trasparso una cosa da queste due prime giornate, la Fiorentina prende tanti gol, la Juve non è apparsa proprio impeccabile, poi le manca Chiellini E secondo me la Fiorentina dovrà fare per forza una bella partita perché perdere un'altra volta vorrebbe dire proprio Già sono partiti col piede sbagliato, ancora peggio, non so se 1x2 ma gol sì, quindi entrambe le squadre segnano un gol Napoli-Sandoria, sarà riuscito di Francesco a sistemare le cose in casa blu cerchiata? Punto di domanda, chi lo sa, dal canto suo il Napoli fa il suo esordio in casa e quindi secondo me qua ci sarà la vittoria del Napoli più over 2,5 Perché comunque la Sampdoria si è dimostrata proprio una squadra che prende tanti gol, anche il Napoli ne ha presi 7 nelle prime due giornate quindi over 2,5 Genoa-Atalanta, ragazzi qua voglio mettere l'1x perché il Genoa mi piace molto, Andrea Zoli fa giocare bene la squadra In più l'Atalanta dovrà fare il suo esordio in Champions e sicuramente sarà condizionata da questa cosa, il pensiero andrà lì quindi secondo me Genoa-Atalanta 1x Per i più coraggiosi anche l'1 perché sarà una quota bellissima Spal-Lazio Allora direi che la Lazio come sempre è una squadra che parte dietro nei pronostici ma che poi si fa rispettare durante l'arco del campionato Secondo me la Lazio andrà a vincere a Ferrara, quindi due Brescia-Bologna Si incontrano due squadre che fino ad oggi hanno fatto mi sembra 4 punti a testa facendo comunque pochissimi gol Arrivano da due under entrambe quindi direi che non c'è due senza tre, under due e mezzo Parma-Cagliari, una delle partite più equilibrate di questa giornata Il Cagliari che ha dalla sua diciamo i favori un po' di tutti, ha fatto una bella squadra, deve comunque portare dei risultati a casa Il Parma che comunque gioca in casa Secondo me questa sarà una partita equilibrata, probabilmente io giocherei l'X primo tempo O X finale, vedete voi Roma-Sassuolo La Roma che ha fatto due punti nelle prime due giornate Deve comunque provare a vincere una partita alla sua portata Ha pareggiato col Genoa due settimane fa Ha pareggiato il derby, che ci può stare Ora arriva il Sassuolo e in casa la Roma deve vincere Salvo sorprese, 1 Verona-Milan Allora A dispetto della vittoria del Verona a Lecce Che voglio dire, il Lecce non è questa grandissima squadra Direi che il Milan potrebbe Vincere questa partita Anche perché sarà una quota abbastanza interessante Direi di rischiare il 2 Chiudiamo i pronostici con Torino-Lecce Lecce che come ho detto prima non è apparsi irreprensibile Quindi il Torino che ancora è avvantaggiato da una condizione attivale Avendo iniziato prima la stagione Può vincere questa partita E quindi 1 Ragazzi, io ho finito Come sempre vi consiglio di Non giocare tutte le partite insieme Perché è molto difficile prenderle Tutte Ma magari sceglierne qualcuna 2, 3, 4 E giocare magari un pochino di più Magari fare una schedina da 10 euro con 4 partite Per i più coraggiosi consiglio La partita singola Vi piace la partita singola? Ve la sentite? Caricate un po' di più Ma le probabilità si alzano drasticamente di vincere Questi metodi che vi ho appena detto Sono riproposti in uno dei miei video 3 metodi per scommesse vincenti Io vi saluto Iscrivetevi al canale Ci vediamo presto Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti